Ennesimo sinistro stradale avvenuto nella mattinata di oggi lungo la strada Trossi tra i comuni di Sandigliano e Gaglianico. Stando alle informazioni raccolte, due auto si sono scontrate lungo la carreggiata ed una di queste ha terminato la sua corsa all'interno di una cunetta. Sul posto è giunto il personale del 118 che ha provveduto ad assistere un uomo rimasto ferito nell'incidente. In seguito trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. L'altra conducente invece pare sia rimasta illesa. Presenti naturalmente anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e gli agenti di polizia per la raccolta dei rilievi e la gestione della viabilità. Il traffico ha subito rallentamenti fino alla rimozione dei veicoli coinvolti. Incidente che fortunatamente non ha avuto esiti gravi ma ritorna prepotentemente al centro il tema della sicurezza su una delle arterie a scorrimento veloce più trafficate della provincia. 3 milioni di euro di investimento che attendono i blocchi di partenza. L'opera fortemente voluta dall'attuale vicepresidente della provincia Federico Maio è molto vicina alla realizzazione effettiva. La fase di progettazione è conclusa ed i fondi provenienti dall'ente area vasta sono stati accantonati. Intanto, così come ribadito più volte negli ultimi giorni, anche la Fondazione Biellezza ha intenzione di scendere in strada per offrire il suo contributo in un'ottica di lavoro di rete. Ma comunque la sicurezza dell'arteria a scorrimento veloce pare abbia la precedenza su tutto il resto.